A parte qui i cartelli li facciamo in casa perché come sempre tutto è abbandonato, qui c'è una discarica a cielo aperto, non si capisce perché non si pulisce mai oppure non si faccia qualcosa, qualche intervento. Inizia così il video pubblicato su Reporter di strada, la pagina Facebook di occhio alla notizia dedicata alle segnalazioni dei nostri telespettatori. Dopo averlo visionato, questa mattina ci siamo recati sul posto nel quartiere della Trave a Fano e lo scenario che ci si è presentato davanti era ancora lo stesso di quello descritto ieri dal residente. Una bici rotta appoggiata all'albero, cartacce ovunque, pneumatici, pezzi di plastica e stoffa e decine di questi contenitori di vino, vuoti. Una situazione di degrado che, come ci dicono, va avanti da tempo nella zona sportiva frequentata da tanti fanesi e non solo. Come vedete le strade sono completamente piene di buche, per cui il degrado e l'inciviltà porta altro degrado e altre inciviltà. Io poi per carità, qua ci sono dei ragazzi che giocano benissimo, che vengono a giocare. Anzi, con il lockdown questa qui è una zona che deve essere valorizzata, perché l'abbiamo visto nel precedente periodo, quello di febbraio-aprile, dove qui era pieno di gente, oggi cerchiamo di potenziarla. Giorgio Pucci, presidente dell'AFAQ, all'Associazione Fanese Amatori Calcio, ribadisce che questo non è un quartiere periferico della città e che quindi dovrebbe avere una maggiore attenzione da parte del comune, a partire dall'illuminazione pubblica che potrebbe disincentivare i furbetti ad abbandonare qui i loro rifiuti. Magari con degli interventi anche minimi. Uno, ripeto, siamo su via del Frusaglia, per cui una pista ciclabile, lato pista, diciamo, per cui lato mare, si potrebbe iniziare a realizzare, si potrebbe iniziare a fare delle cose, diciamo, molto semplici. Questo dovrebbe modo di mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni soprattutto. Le altre priorità, aggiunge Pucci, sono l'asfaltatura delle strade, piene di buche e la segnaletica stradale. Infatti, ad oggi, i due parcheggi non vengono utilizzati, eppure con tutte le attività sportive della zona è spesso pieno di auto parcheggiate sull'erba e lungo la carreggiata. Come vedete, diciamo, abbiamo fatto un cartello in casa perché non c'è una segnalazione verticale e qui ci sono delle liti in continuazione. Una macchina passa, l'altra non passa, è colpa mia, è colpa tua. Per cui potrebbero anche, dato che si parla tanto di abbellire la città, c'è, io un qualcosa farei qui, pianterei due alberi, non so, qualcosina di… questo è il messaggio, diciamo, che vogliamo dare.